Amici, ah, è incredibile il successo di questo personaggio devastante, il vecchietto di Ormassano, ah, ieri sono riuscito a trovare finalmente il suo nome, si chiama Giorgio, ah, però non posso dare il cognome, se no lo trovate ovviamente in un secondo. E allora siamo pronti, oggi ho trovato un'altra vittima per il vecchietto di Ormassano, si, un ragazzo tranquillo, tutto posato, ma lo porterò alla disperazione, siamo pronti, perché non capirà quando gli diremo carete. E allora siamo pronti, ah, 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 andiamo. Pronto? Pronto? Chi è? Io quello che devo dire, lei che mi ha telefonato? Eh? Ma come mai mi chiami a quest'ora? Ma chi ha chiamato che mi ha spillato a me il telefono? Ma che numero ha fatto? Ma io non cerco nessuno, io non ho telefonato. Ah, nemmeno io, ciao! Scusi, eh, scusi, lei è un contadino di Ormassano? Pronto? Pronto? Eh? Non mi ha chiamato. Ma chi cerca lei? Cosa ha suonato il telefono? Io non ti ho chiamato per niente. Ma io voglio sapere niente. Ma tu che numero fai? Ma come mai mi chiami a quest'ora? Ma che cazzo ti chiami? Chi ti ha chiamato? Ma chi ti conosce? Ma non conosci cosa? Non ti conosco, non ti ho mai visto, non ti ho chiamato. Ma io non cerco nessuno, io non ho telefonato. Ma no, chi ha telefonato sto cazzo? Ma come faccio a rompere i coglioni che io non ho telefonato? Brava, è tutto bene. Ma senti un po', ma dimmi un po' una cosa. Mi sai dire chi sei? E non so, dammi il tuo numero di telefono. Io non ti dico per niente chi sono io, non sono di uno dito. Io non ti ho fatto niente. Adesso io ascolto lo stacco. Stacco il telefono, tu mi vuoi fare il numero. Mi hai telefonato. Non ti ho chiamato l'altra volta. No, ma no, lei non deve rompere i coglioni. Pronto? Pronto? Che parla? Io quello che devo dire, lei che mi ha telefonato. No, non penso. Non mi ha chiamato. No. Mi hai telefonato? No. E allora? Non so neanche chi sia lei, per cui non saprei dire. Ecco, io sono un semplice cittadino di Orbasano. Eh, io sono un semplice cittadino di Torino. Sono a casa per quello che ho risposto al telefono, se no di solito non rispondo neanche mai. Non l'ho chiamata, non l'ho cercata, non saprei dire proprio niente. Carette? Mi piace. No, di Torino. Eh, non lo so io. Quella parola lì non la conosco. No, che sono un semplice cittadino di Torino. Non ho disturbato nessuno, non l'ho telefonato a nessuno. Però guarda che hai sbagliato numero, hai sbagliato... Eh, forse hai sbagliato persona. Non l'ho proprio telefonato a nessuno. Ma... Io cosa le devo dire? Lei che mi ha telefonato. Ma io non l'ho chiamato a nessuno. Cos'è? Nel carette, né niente. Ma che carette? Carette? Non... Niente... Ma io non lo so. Ma neanche io lo so. Non so neanche di cosa sta parlando. Eh, no, ma io non ho capito il perché mi telefoni e cosa vuoi. Ma io non l'ho telefonato. Io non l'ho telefonato e non so neanche chi è lei. Eh, forse hai sbagliato persona. Ma non l'ho sbagliato proprio niente. Io non l'ho telefonato a nessuno. E allora? Ma io non l'ho telefonato. E allora? Cosa c'è? Chi cerca? Ma non l'ho telefonato a nessuno. È lei che sta telefonando a me. No! Come no? Lei che ha telefonato. Io l'ho già attaccato. Io non so neanche chi è lei. Non lo voglio neanche sapere. Ecco, io sono un semplice cittadino. Eh, anch'io sono sempre un cittadino italiano. No. Lo stesso. Tutto uguale. Non si vuole dirle. Carette? Ma non sono carete io. Mi chiamo Andrea. Carette? Ma chi è carete? Chi è che è sto cazzo di carete? Carette? Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, non esitare a contattarmi lasciandomi il suo numero di telefono. Scrivi a wender at dj.it. Mi raccomando, e al resto ci pensa il resto. Wender Action!